Questa stagione abbiamo cambiato un po' quelli che sono i colori della nostra azienda, il DNA di tagliatore è stato cambiato perché abbiamo messo questi colori nuovi che sono tutti colori un po' polverosi, queste nuanze di Bordeaux, di rosa, di fucsia e poi abbiamo tanto bianco abbinato a questi colori, questi colori con tendenze al Bordeaux che vengono miscelati con il tortore, con il fanco, con il bianco, con il Bordeaux e poi sono realizzati in tessuti leggerissimi. Partiamo dal giro inglese, un tessuto molto leggero, a volte, anzi non a volte, trasparente, tessuti con della seta all'interno, tessuti in jersey, realizzati con del lino, poi del lino, poi ancora seta, lino, nylon. Altro tema della stagione, continuando sempre con i Bordeaux, è sicuramente l'abito, l'abito realizzato in un tessuto di nylon perché c'è voglia davvero di indossare degli abiti leggeri. E' questo un capo completamente destrutturato, è quasi una camicia. L'abbiamo realizzato con un pantalone, con un gusto jogging, con culisse, proprio per dare al cliente finale un abito davvero da portare senza, con disinvoltura, la mattina, il pomeriggio e anche la sera. Non mancano le nostre scarpe, le nostre camicie, sempre con un gusto molto, ma molto leggero, la camicia di jeans, i nostri foulard e poi infine i nostri capi in pelle, realizzati con questi tessuti in camoscio. Abbiamo realizzato una giacca in camoscio e poi si passa al chiodo, realizzato non più in nero ma con questi colori naturali, questi tortora, poi abbiamo il nostro giubbino realizzato con questo a pelle, questo gusto mattone e via.